A me no, gioca, gioca! La fava di Roma e il pisalo dei pori. Che vuol dire? Rincoglionito. Quale? Quella cosa che sta là, guarda. È una torre, che cos'è? È tipo una torre. È una torre. Come vogliamo andare a comprare una torre, tutta raffreddata. Come è la torre? È buonissima. La tua lo metti? Aspetta. Ah, stai facendo il video. A me sei ben finita. È buona. E mangia, apri la bocca. Mettati i baffi. 묻 infrastructure live. Valevati. Ciao. Grazie. Grazie.